Nessun incidente domestico ma la precisa volontà di dare fuoco all'appartamento. Questa è l'ipotesi dei carabinieri sulle cause dell'incendio che ha distrutto l'abitazione di Maria Grazia Ambrosini al sesto piano di via Enrico Albanese a Palermo. I sospetti principali ricadono sul nipote Alessandro Ambrosini, 52 anni, figlio di un fratello della donna. Per l'indagato, insegnante oggi disoccupato, l'accusa è di incendio doloso. Sarebbe stato lui infatti a dare fuoco con un'accendina o una tenda del soggiorno durante una lite con la zia, lite raccontata anche da alcuni testimoni ai carabinieri. Ambrosini la notte scorsa è stato ascoltato dai militari ma non avrebbe saputo dare una spiegazione del gesto. Un'ipotesi emersa dalle indagini è però legata a contrasti per l'eredità dell'anziana. È probabile che l'indagato mirasse ottenere l'appartamento di via Albanese. Secondo gli investigatori per questo avrebbe voluto distruggere quell'appartamento che non avrebbe avuto in eredità. Per lui è scattato anche l'alcol test che alla fine è risultato positivo. Sulla dinamica i vigili del fuoco stanno ultimando i rilievi ed è probabile che lo scoppio, avvertito dopo l'incendio, sia stato dovuto all'esplosione di una bottiglia d'alcol che la donna stava usando per fare delle pulizie. Nel ruogo sono rimaste intossicate in maniera non grave cinque persone, oltre all'anziana anche un carabiniere e tre condomini.